ciao siamo sicuri che vivrete per sempre felici e contenti perché vi abbiamo fatto conoscere noi già questo è una garanzia vi abbiamo accompagnato sui posti più romantici di roma solamente per farvi mettere insieme siamo andati da faliero a mangiare la torta sotto la neve abbiamo corso fino alla stazione più di una volta per accompagnare a lena a foligno eravamo in anticipo abbiamo fatto tante giri con cecchico a roma abbiamo fatto 5 traslochi per far fare l'elena per l'occhio ma soprattutto vi siete sopportati e vi abbiamo sopportato per tutti questi anni fino ad oggi quindi se non siete felici e contenti per tutta la vita però sarete felici e contenti perché il meglio deve ancora venire vi vogliamo bene vi vogliamo bene viva gli sposi no